Continuano le attività di pulizia dei canali a Sapri dove si cerca di non ripetere con le nuove copiose precipitazioni quanto accaduto nei giorni scorsi. Nella cittadina vanno avanti anche le operazioni di accertamento dei danni subiti per la richiesta di calamità naturale. Ma il maltempo di questi giorni ha determinato disagi e conseguenze importanti anche sul fronte dell'approvvigionamento idrico. Una situazione in realtà generalizzata che interessa tutto il territorio non solo quello del Golfo di Policastro perché dopo l'ondata di piogge e allagamenti si segnalano la rottura del faraone, il blocco dei potabilizzatori, l'intorbidimento di quasi tutte le sorgenti e per quanto riguarda Castellabate problemi importanti agli impianti. A Sapri, come già era nell'aria, è arrivato l'avviso di CONSAC che annuncia sull'intero territorio comunale la non potabilità dell'acqua che fuoriesce torbida dai rubinetti. Bisognerà attendere un nuovo annuncio per poter tornare ad utilizzarla normalmente. Questione probabilmente di qualche giorno. Da CONSAC fanno sapere che questa volta non è la ruotolo solo ad aver subito l'intorbidamento e quindi la situazione potrebbe rientrare più velocemente solo una volta ripristinata la faraone. Gli operai della società sono al lavoro per intervenire sul guasto che rischia di mettere in ginocchio diversi comuni dove l'erogazione dell'acqua è già interrotta, pur se le popolazioni non stanno vivendo ancora alcun disagio in quanto stanno utilizzando l'acqua già presente nei serbatoi pieni. Si lavora dunque per cercare di venire a capo del problema sulla faraone entro la serata, tanto più viste le previsioni meteo e impeggioramento per la giornata di martedì. Intanto a Vibonati, dove pure a causa del maltempo si erano registrati dei problemi che avevano portato dalla serata di domenica all'interruzione del servizio idrico, il danno è stato riparato e l'incomodo è rientrato. Disagi nell'erogazione dell'acqua anche a Santa Marina capoluogo.